il titolo del messaggio è cammina sulle acque o affonderai cammina sulle acque o affonderai non vi sto chiedendo carissimi di andare al mare e dire vediamo se cammina sulle acque affonderai li ma è un insegnamento che facciamo gesù questo è successo realmente con pietro però l'insegnamento molto importante perché noi siamo chiamati a camminare sulle acque e vedremo voglio leggere la scrittura prima ogni cosa in matteo capitolo 14 dal verso 22 leggiamo così qui siamo subito dopo la moltiplicazione dei pani e subito dopo la moltiplicazione dei pani gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva mentre egli licenziava le folle dopo averle congedate salì sul monte in disparte a pregare e fatto si sera era là tutto solo la barca intanto si trovava a largo in mezzo al mare ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario alla quarta vigilia della notte gesù andò verso di loro camminando sul mare i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma e si misero a gridare dalla paura potete immaginare che trambusto dentro una barca un fantasma tutti impauriti no qualcuno ha preso capelli bianchi in quell'occasione forse si misero a gridare dalla paura ma subito gesù parlo loro dicendo rassicuratevi sono io non temete e pietro come dice lillo che parlava sempre chiusa e pietro rispondendo gli disse signore se sei tu comandami di venire da te sulle acque e gli disse vieni e pietro sceso alla barca camminò sulle acque per venire da gesù ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciò ad affondare e gridò dicendo signore salvami e subito gesù stese la mano lo prese gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato poi quando salirono in barca il vento si acquetò allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono dicendo dicendo veramente tu sei il figlio di dio ora vedete il cristiano nato di nuovo quando parliamo di cristiani nato di nuovo parliamo di persone che hanno fatto un'esperienza vera con gesù perché non si nasce credenti non si nasce cristiani si diventa cristiani diventare cristiani una scelta attraverso un incontro personale col signore e questo avviene nel corso della nostra vita per mezzo dell'annuncio della parola di dio della predicazione del vangelo chiunque crede nasce come dice la scrittura da acqua e da spirito ovvero dalla parola e dallo spirito di dio riceve lo spirito santo e diventa un figlio di dio dio mette il suo sigillo adesso tu sei mio figlio e la bibbia dice che quando avviene questo dio strappa la persona dal regno delle tenebre la porta nel suo regno che è il regno dell'amato suo figliolo gesù cristo questo è il regno della luce il problema è per i cristiani cominciare a camminare con una vita nuova perché quando parliamo di tenebre parliamo di luce parliamo di due tipi di vita parliamo di due modi di essere di due culture parliamo di cose opposte l'una all'altra che sono in contrasto parliamo di carne e di spirito e la bibbia dice che noi siamo chiamati a camminare in novità di vita e a camminare per lo spirito altrimenti se non camminiamo per lo spirito cammineremo e faremo e adempiremo le opere della carne che conducono alla morte allora dobbiamo imparare a camminare con una nuova vita questa in questa scrittura questo camminare sulla sulle acque possiamo parafrasarla questa scrittura paragonarla a un camminare in questa vita le acque figurativamente sono i tumulti i popoli le culture di questo mondo e gesù ci sapeva camminare sopra e la dimostrazione camminava proprio sulle acque letteralmente era perché lui sapeva camminare effettivamente nella sua vita qui sulla terra al di sopra delle culture umane al di sopra della mentalità umana al di sopra dei preconcetti umani perché lui era sceso dal cielo era venuto dal cielo aveva lo spirito di dio ma poiché noi in lui siamo diventati figli di dio chi ha creduto in gesù chi ha creduto in gesù figlio di dio figli di dio in cristo perché lui è l'unigenito ovvero la bibbia lo chiama anche il primo genito dei risorti l'unigenito nel cielo la parola primo genito dei risorti qui sulla terra allora noi siamo la chiesa la bibbia ci chiama la chiesa dei primogeniti perché siamo primigeniti in cristo gesù ma questo ci implica fratelli miei che dobbiamo imparare a camminare con una vita nuova il problema sapete qual è il problema è che vivendo qui sulla terra sebbene abbiamo le primizie dello spirito santo sebbene siamo stati spiritualmente trasportati già nel cielo la bibbia dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in cristo gesù però viviamo fisicamente qui sulla terra il problema si pone perché dobbiamo imparare a camminare bene nel mentre siamo qui sulla terra siamo stati trasportati nel regno delle della luce ma camminiamo qui sulla terra affinché qui sulla terra possiamo illuminare sapete se noi siamo qui e abbiamo conosciuto gesù è perché qualcuno prima di noi ha camminato qui sulla terra ha portato la luce qui sulla terra in primsi gesù ma poi tutti coloro che hanno creduto in lui io quando sono arrivato alla fede e perché qualcun altro prima di me mi ha annunciato l'evangelo ma mille volte ma non soltanto una persona ma tante persone e quella era la luce e quando tu percepisci arrivi a percepire questa luce ti decidi per gesù tu stesso diventi luce e sei chiamato a portare luce in mezzo a queste tenebre di questa vita credete in questa vita questo mondo vive in mezzo alle tenebre gesù disse l'albero buono porta frutti buoni l'albero cattivo porta frutti cattivi guardate che frutti porta questo mondo guerre ovunque omicidi assassini sete di potere corruzione questo nei frutti e frutti sono frutti delle delle tenebre i frutti della luce sono tutt'altra cosa e noi siamo chiamati come seguaci di gesù cristo a portare frutti di luce che sono pace gioia amore benevolenza perdonare aiutare sostenere considerare gli altri più che considerare noi stessi così come gesù ci considerò più di se stesso a noi allora la vita che dobbiamo dobbiamo vivere qui sulla terra possiamo paragonarla a una vita dove camminare sopra le acque noi vedete nella vita quotidiana abbiamo delle acque sotto di noi e noi dobbiamo imparare a camminare su queste acque le acque di questo mare di questo mondo vedete la vita sulle acque ci parla di una cosa molto importante di camminare o di vivere la nostra vita in modo soprannaturale a volte noi pensiamo che vivere in modo soprannaturale sia quando vediamo una liberazione quando vediamo una guarigione quando vediamo una persona che accetta Gesù e viene salvata e ok sono cose soprannaturali ma il soprannaturale nella vita del cristiano deve essere quotidiano non deve essere un'eccezione ma deve essere la vita di ogni giorno quella che vive quotidianamente quando tu vivi e c'è qualcuno che ti fa del male tu lo perdoni tu stai vivendo il soprannaturale quando tu non ricambi con la stessa moneta stai vivendo il cielo qui sulla terra il soprannaturale perché il soprannaturale significa vivere il cielo qui sulla terra così come Gesù venne a vivere il cielo qui sulla terra e noi siamo chiamati tutti quanti a vivere il cielo qui sulla terra altrimenti falliremo nei nostri obiettivi e affonderemo è facile ma per niente è difficile molto difficile perché c'è un conflitto però posso dirvi una cosa si può e posso dirvi un'altra cosa è gratificante e posso dirvi un'altra cosa ancora è gioioso quando ci riesci e posso dirvi un'altra cosa ancora gli dai un calcio al diavolo quando lo fai posso dirti un'altra cosa ancora tu ti senti bene quando riesci a fare la volontà di Dio ne vale la pena quando una cosa costa viene molto apprezzata più costa più la apprezzi è vero? quando una cosa è data così beh, bella può essere bella ma non viene molto apprezzata ebbene il regno di Dio è costato a Gesù la sua vita il regno di Dio costa a noi la nostra vita perché noi siamo chiamati a dare la nostra vita così come Gesù l'ha data significa che dobbiamo lasciarci uccidere non sto dicendo questo sto dicendo che dobbiamo vivere da veri figli di Dio altrimenti a cosa serve la nostra fede? Gesù disse se tu fai del bene a Carmelo perché Carmelo ti fa del bene tutti lo fanno questo è naturale non è soprannaturale ma se tu ami il tuo nemico se tu fai del bene a colui che ti fa del male se qualcuno ti chiede di fare un miglio e tu ne fai due miglia assieme a lui se qualcuno ti chiede la giacca e tu gli dai pure il mantello e allora quella è tutt'altra cosa quello è il regno di cielo che si manifesta qui sulla terra e quello è gratificante perché un cristiano quando non riesce sta male quando riesce invece si sente bene perché ha soddisfatto la volontà di Dio è la volontà che sente potentemente nella sua vita e sa che ha camminato e sta camminando per lo spirito e non per la carne amén la vita sulle acque fratelli miei la vita sulle acque la possiamo vivere soltanto si è parlato stasera molto all'inizio durante la presidenza la lode di parola la parola di Dio la parola di Dio è fondamentale nella vita del cristiano è come la bussola altrimenti tutto fa broso come sappiamo dov'è la verità Gesù lo disse a Pilato per lui Pilato lo disse a Gesù vi ricordate cos'è verità e Gesù disse una cosa molto importante io sono la verità cos'è la vita ho scritto una poesia questa vero vi ricordate l'ho letta una volta cos'è la vita Gesù disse io sono la vita come si fa a arrivare a Dio a conoscerlo non sappiamo chi è Dio tutti credono che hanno un'idea su Dio Gesù disse io sono la via che conduce al padre nessuno conosce il padre se non per mezzo di me ero un fanatico Gesù o diceva la verità se togli Gesù tutto fa brodo e si entra nella confusione o tutti hanno ragione o tutti hanno torto io credo che l'unico che è venuto qui sulla terra e che l'ha dimostrato risuscitando dai morti questo è Gesù nessun altro da qualsiasi altra religione vai non esiste nessuno che ha fatto questo e Dio ha lasciato la sua parola per non essere confusi perché se non ci sarebbe la sua parola saremmo tutti confusi ma la sua parola ci dà la direzione ci indica come muoverci ci dice quali sono le cose giuste da fare ci dice da che parte andare ci dice chi è Dio ci dice come possiamo arrivare a Lui ci dice come dobbiamo vivere la luce qui sulla terra ci dice cosa sono le tenebre ci dice cosa è l'egoismo il vero egoismo ci dice cosa è il vero amore tutto è nella parola di Dio la parola di Dio è meravigliosa senza la parola di Dio io mi sentirei perduto ma la parola di Dio è il tutto nella vita del cristiano vedete quindi per camminare qui sulla terra abbiamo bisogno di due cose molto importanti per camminare sopra le acque e ce l'abbiamo chi ha creduto in Gesù ce l'ha chi ha creduto in Gesù ce l'hai credi nella parola di Dio ce l'hai la parola di Dio la parola di Dio è la Bibbia che viene rivelata gradualmente nella vita del credente attraverso la lettura attraverso l'ascolto della parola come state facendo questa sera come stiamo facendo io stesso sto ascoltando come stiamo facendo questa sera ci indica ci dà le direzioni ci fa vedere come stanno le cose la parola di Dio vedete ci fa vedere esattamente la condizione di ogni cosa secondo la rivelazione che abbiamo non comprendiamo tutto non abbiamo la presunzione di comprendere tutto se non come dicevo ieri a Messina se abbiamo questa presunzione ci mettiamo sopra la parola e sapete che la parola è Dio la parola è presso Dio la parola era Dio e la parola si fece carne e Gesù è la parola fatta carne uomo ma Gesù è la parola ovvero la parola prima di essere Gesù è la parola e continua a essere la parola e la parola è sopra tutto e noi non possiamo metterci sopra la parola e cavalcare la parola come vogliamo noi e portarla dove vogliamo noi noi dobbiamo stare sotto la parola e man mano che andiamo comprendendo ci lasciamo guidare dalla parola a me è diverso noi siamo sapete una buona considerazione di noi stessi è questa noi siamo quell'asinello che porta sopra la parola ovvero Gesù e che si lascia guidare dalla parola pensate a quell'asinello quando Gesù disse portatemi un asino entrò poi a Gerusalemme e dice l'asino si sentiva si sarebbe sentito chissà che cosa io Gesù ti porto adesso dove dico io no l'asinello aveva le briglie e Gesù lo dirigeva e io voglio essere vi dico la verità con le orecchie lunghe con le orecchie lunghe non fa niente voglio essere un asino per Gesù perché un asino per Gesù è più intelligente di tutte le persone intelligenti di questo mondo Amen Gloria a Gesù abbiamo bisogno della parola e ce l'abbiamo ma abbiamo bisogno di un'altra cosa pure la parola ci dice e ci spinge a camminare non da fiacchi non vivere la vita da fiacchi nel fare le cose e a vivere nella paura nel terrore nell'angoscia nell'ansietà ma ci parla di un'altra cosa che noi dobbiamo camminare nella potenza dello Spirito Santo conoscere la parola di Dio non ci serve a niente se noi non camminiamo nella potenza dello Spirito Santo la parola di Dio ci dice tu devi camminare nella potenza dello Spirito Santo perché se non cammini nella potenza dello Spirito Santo non credi veramente che sei cavalcato dalla parola di Dio e vivi nella paura e vivi nell'angoscia e affondi noi ce l'abbiamo se avete credito in Gesù la Bibbia dice che voi siete il tempio dello Spirito Santo lo Spirito di Dio è venuto a abitare dentro di voi voi credete che la parola di Dio è la guida ci abbiamo tutte e due le cose ci abbiamo la parola ci abbiamo lo Spirito allora possiamo essere andare nelle giuste direzioni fare le cose giuste e farle non fiaccamente perché Dio non fa le cose in modo fiacco non penso che Gesù nella potenza vi ricordate cosa dice nella potenza dopo il deserto nella potenza dello Spirito Santo entrò a Capernaum entrò nella sinagoga e si mise a sedere e disse io di qua non mi muovo e non parlo più no Gesù nella potenza dello Spirito Santo entrò nella sinagoga e qualcuno gli disse leggi il rotolo di Isaia e lui lesse il rotolo di Isaia e disse dando a prendere quel brano della scrittura che dice lo Spirito dell'Eterno è sopra di me egli mi ha unto per evangelizzare i poveri per liberare i prigionieri per guarire quell'oro che hanno il cuore rotto per mettere in libertà i prigionieri e non lo fece feccamente fratelli miei lo fece nella potenza di fatti poi quando usciva fuori segni prodigi miracoli seguaci si accostavano sempre a Gesù persone venivano liberate persone venivano guarite persone che diventavano discepoli di Gesù Cristo perché camminavano nella potenza dell'ospito santo come camminiamo noi qualcuno può dire ma io non sono Gesù tu sei Cristo se non sei Gesù vero sì l'ho detto la volta scorsa mi sembra ma tu sei Cristo non è Cristo Gesù perché la parola Cristo significa significa unto unto non di olio ma di spirito voi siete tanti Cristi capito non con il termine come si dice un povero Cristo non è quello povero Cristo è una dispregiativa incredibile di ciò che è Cristo Gesù capite è un povero Cristo Gesù non era un povero Cristo Gesù era un potente Cristo e voi potete essere dei potenti Cristo ovvero dei potenti unti da Dio perché avete creduto in Gesù per potere camminare nella potenza dello Spirito Santo nei fatti della vita perché perché abbiamo bisogno di questo perché negli fatti della vita quando camminiamo sulle acque fratelli miei incontriamo venti contrari così come Pietro incontriamo tempeste quante tempeste ci sono in questo mondo in questa vita nella nostra vita personale in un modo piccole tempeste grosse tempeste terremoti a volte a volte calamità a volte piccole cose a volte grandi cose ci sono delle cose fanno parte di questa vita perché questo mondo è radicato nelle tenebre e noi le incontriamo tutti le incontriamo dal punto di vista lavorativo le incontriamo dal punto di vista affettivo le incontriamo nelle amicizie le incontriamo ovunque queste cose basta che tu ti confronti con le persone incontri queste cose e cosa fai? la Bibbia dice che tu devi camminare in un determinato modo come faccio a camminare signore? posso venire da te? perché solo con te posso camminare? ecco la voce di Pietro e Gesù cosa disse? vieni puoi camminare con me e Pietro camminò sulle acque per un momento non è acqua terra è terreno camminò sulle acque per un momento cominciò a camminare sulle acque ah che bello camminare sulle acque però a un tratto si distorse i suoi occhi da Gesù e cominciò a vedere il vento vento da questa parte cominciò a guardare a destra a sinistra la tempesta e come faccio? e fu preso da che cosa? dalla paura perché quando noi ci concentriamo sui fatti della vita che sono negativi per noi noi entriamo in un clima di paura meno male che Pietro nel mentre affondava a volte siamo anche noi così fratelli miei nel mentre affondava fece una cosa molto importante si rivolse lo stesso a Gesù dice signore salvami sto affondando il problema immagino Pietro con la mano distesa così perché poi Gesù gli afferrò la mano il problema di tanti cristiani è che certe volte vanno affondando vanno affondando ah sto affondando ah sto affondando e non gridano a Gesù chi ti salverà se non ti salva Gesù Pietro disse signore sto affondando salvami e Gesù se lo fa ripetere due volte non viene il nostro soccorso non è il nostro aiuto lui non è per noi la Bibbia non dice se Dio è per voi chi sarà contro di voi colui che ha dato il suo figlio per voi come non vi darà tutto il resto delle cose chiedete vi sarà dato cercate troverete bussate vi sarà aperto Dio la nostra parte significa Dio è il nostro alleato non è il nostro nemico e non è uno che se ne frega di noi è uno che sta accanto a noi anche quanto noi certe volte pensiamo che stiamo affondando pensiamo che lui sia lontano lui è là vicino a noi così come Gesù era vicino a Pietro e Pietro disse signore salvami e Gesù cosa fece stesse la mano e lo tirò fuori io non so nella condizione in cui ci troviamo noi ma quando ti senti affondare ovvero non ce la fai con i fatti della vita grida a Gesù grida a Gesù sicuramente poi il Signore ci tirerà un po' l'orecchio in modo amorevole così come a Pietro cosa fece con Pietro avete visto prima lo tirò fuori e poi gli dice ma se noi leggiamo così ma posso immaginare tutta la scena che lo prende e gli dice Pietro lo so bello quanto parli tu però dico uomo ti sei stato di poca fede non ci sei riuscito visto che potevi camminare sulle acque perché hai avuto paura non guardare a destra guarda sempre verso di me e vedi che camminerai sui fatti della vita e non affonderai e poi posso immaginare io ho scritto qui come finale questo posso immaginare Gesù sulla barca quando lo porta sulla barca assieme a tutti gli altri e dice ah è il Signore l'adoriamolo è lui adesso ci credono prima vede il fantasma adesso ah è lui Gesù il Signore che bello è lui l'adoriamolo è il figlio di Dio veramente perché avevano dubbi prima figlio di Dio veramente figlio di Dio è il figlio di Dio adoriamolo e posso immaginare Gesù che si chiama accanto a Pietro e lo fa ascoltare pure agli altri così come lo dice Carmelo stasera e lo fa ascoltare pure a tutti noi e gli dice Pietro potevi farcela sai una cosa Pietro la prossima volta ce la farai coraggio che Gesù viene sempre per incoraggiarci mai per sgridarci per opprimerci per scoraggiarci Pietro posso immaginare questo non è scritto nella Bibbia così letteralmente capite perché la Bibbia non scrive tutte le scene in un modo letterale non è come fa Lillo che scrive tutta la scenografia parola dopo parola nelle sue cose che fa e quindi no lui la Bibbia è molto sintetica altrimenti la Bibbia dovrebbe contenere centinaia e centinaia di libri per raccontare tutte le scene è vero allora noi possiamo tra le fila anche immaginare possiamo immaginare posso immaginare che sulla barca parlò con gli altri non finì tutto lì arrivare all'altra riva appunto e basta parlò con gli altri si sedette con gli altri disse adesso questa tempesta non c'è più adesso poi potete andare sereni e tranquilli perché io sono con voi e Gesù fece una una promessa ci ha fatto quanto tempo sarà con noi prima di andare via dalla terra Gesù disse io sarò con voi fino alla fine dei tempi non vi lascerò e non vi abbandonerò mai quando tu pensi che ti abbia abbandonato io sono lì più vicino ancora a te sei tu non mi stai vedendo ma io sono lì e la nostra fede e vedete è nell'indicazione della parola cosa dice la parola lui è lì con noi la nostra fede quando noi crediamo che lui è lì con noi anche quando noi non lo percepiamo non lo sentiamo allora ce la possiamo fare a camminare sui problemi di questa vita che dite possiamo camminare sulle acque difficili di questa vita quando incontriamo le tempeste i venti contrari quello che va tutto contro di noi possiamo camminare lo stesso eh vi leggo una scrittura seconda Corinzi capitolo 5 verso 4 dice così noi infatti che siamo in questa tenda parla del corpo umano gemmiamo essendo aggravati non c'è una forza di gravità sulla terra eh che ci tiene io a certe volte vorrei volare vi dico la verità certe volte quando ero piccolo sognavo di volare chi è che ha sognato di volare grazie sono un po' una compagnia quando ero piccolo sognavo di volare però certe volte quando mi svegliavo ora se cerco di volare è a finire sempre a terra non so perché c'è una forza di gravità capite cioè anche vedete noi siamo aggravati in questo mondo di tenebre c'è una forza di gravità capite che ci tiene ci fa vedere ci fa vivere appesantiti qui perché vediamo tutte queste cose che succedono aggravati e perciò non desideriamo di essere già sfogliati ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita ora colui che ci ha formati proprio per questo ci ha formati per non essere aggravati per avere un corpo di risurrezione per vivere una vita diversa ci ha formati per questo è Dio il quale ci ha anche dato la caparra dello spirito quello che vi dicevo prima noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore e allora cosa facciamo camminiamo infatti per fede e non per visione noi siamo chiamati a camminare qui sulla terra per fede la fede ha a che vedere con la parola con la potenza dello Spirito Santo quando tu cammini guidato dalla parola di Dio e nella potenza dello Spirito Santo stai camminando per fede qui sulla terra e non affondi nelle acque di questa vita quando invece cammini per visione ovvero per quello che ti succede attorno per quello che vedi e vedi che Carmelo mi fa uno sgarbo e io Carmelo mi fa uno sgarbo io non sto camminando più per fede io sto camminando per visione io devo camminare per quello che Dio mi dice non per quello che Carmelo mi fa altrimenti non camminiamo bene non camminiamo per fede non seguiamo la guida della parola di Dio e non camminiamo nella potenza dello Spirito Santo e cammineremo di conseguenza nella debolezza della nostra fragile umanità noi non camminiamo per visione impariamo fratelli miei a camminare per fede sebbene sia difficile ma è possibile Pietro sulle acque aveva cominciato per fede e poi affondò e Gesù cosa fece? non c'è un rimprovere in questo capite? c'è un'esortazione e Gesù cosa fece? lo tirò fuori e gli disse dai lui provaci ce la farai la prossima volta Pietro non ce la fece neanche nel giorno del tradimento anche lì affondò vi ricordate? lo rinnegò tre volte prima che il gallo cantò e Gesù glielo aveva predetto ma dovevano andare in quel modo le cose ma c'era la fragilità ancora di Pietro ma poi vediamo come Pietro cammina sulle acque nel giorno di Pentecoste è incredibile vi scende la potenza dello Spirito Santo riuniti lingue di fuoco e lui si alza sopra tutti e comincia ad annunciare con la potenza dello Spirito Santo l'Evangelo di Gesù Cristo e non ha più paura non ha più paura la paura fratelli miei è pericolosa la paura viene dalle circostanze la paura viene dal basso dall'inferno ma noi possiamo ricevere la forza che viene dall'alto nella potenza dello Spirito Santo Ebrei 12.1 dice ancora così anche noi dunque essendo circondati da un così gran numero di testimoni quindi non siamo soli non siamo i primi a camminare così tanti ce l'hanno fatta significa tanti 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 ce l'hanno fatta ce lo possiamo fare ancora noi pure non siamo soli tu non sei un'isola tu sei una chiesa ci sono tanti come te e tanti nel tuo passato ma anche nel presente tanti ce l'hanno fatta a camminare in questo modo anche tu ce la puoi fare anch'io ce la posso fare io mi sento incoraggiato da questo non mi sento scoraggiato dalle cose del mondo o da coloro che non ce la fanno io mi sento incoraggiato da Gesù che ce l'ha fatto e da tutti coloro che ce l'hanno fatto allora dico ce la posso fare anch'io ce la posso fare anch'io forse qualche volta affonderò ma griderò a Gesù e lui mi rialzerà e continuerà ad andare avanti e sicuramente il Signore sarà con me mi darà la forza e ce la farò arrivare fino in fondo fin quando lo vedrò alleluia anche noi dunque essendo circondati da un così gran numero di testimoni deposto ogni peso le zavorre la forza di gravità e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti come tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posta a sedere alla destra del trono di Dio ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé opposizione contro di sé quanto opposizione incontriamo noi contro di sé da parte dei peccatori affinché noi non voi non vi stancate e veniate di conseguenza meno siamo chiamati a resistere significa camminiamo allora fratelli miei per fede guardando i nostri occhi sempre su Gesù non facciamo come Pietro che distorse gli occhi da Gesù cale a picco ma se noi teniamo gli occhi su Gesù noi non non affonderemo e la paura non ci sorprenderà e di conseguenza non ci sarà ansia noi siamo chiamati a vivere nella pace nella serenità nella gioia dello Spirito Santo non siamo chiamati a vivere nella paura nell'ansia ci sono tante persone a volte credenti ansiosi e domani e il lavoro e quello e il futuro e il domani ogni giorno lo so fanno ogni giorno dice grazie Signore per questo giorno benedicelo fin dall'inizio butta un seme si parlava di seme butta un seme di benedizione la mattina nella tua giornata e dice Signore grazie per questa giornata che mi hai dato sarà una giornata benedetta e poi cammina e se qualcosa va storto cammina sulle acque non lasciarti rubare la pace del cuore la serenità la gioia perché cosa potrai cambiare con la tua ansia cosa potrai cambiare potrai soltanto peggiorare le cose e Gesù è venuto per risolvere le questioni non per peggiorarle amén gloria a Gesù questo è il nostro amato Signore il nostro amato Gesù lui ci dice cammina sulle acque figlio mio se no altrimenti affondi camminate sulle acque chiesa perché chi non cammina sulle acque tende ad affondare e se qualche volta affondi grida a me io sono lì pronto a tendere la mano a dire vieni su e poi ti ti incoraggerò ti ristorerò non ti accuserò non ti sgriderò neanche dirò soltanto che non hai avuto un po' di fede in quel momento però ti dico soltanto che ce la puoi fare e che andando avanti ti insegnerò come fare amén ci alziamo in piedi gloria a Gesù alleluia gloria al tuo nome Signore ti adoriamo con tutto il cuore ti benediciamo tu sei il nostro Dio Signore e noi sappiamo che tu sei qui e vieni a parlare ai nostri cuori perché ci vuoi incoraggiare ci vuoi dire andate avanti in questa vita io sono con voi e noi sappiamo non ti bretti non tiked non tiarsi non ti non ti non ti non ti non ti non ti